Sparatoria a Canicattì. Vincenzo Curto, 31 anni, è stato ferito da quattro colpi di pistola. Il fatto soltanto pochi giorni dopo l'uccisione, sempre a Canicattì, del giovane Marco Vinci. Sembra che anche stavolta il movente sia passionale. Il tentato omicidio è avvenuto nel quartiere popolare di Borgalino dopo le 21. Curto si è presentato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì con tre colpi alla coscia destra e un colpo sotto il costato. Nella notte è stato predisposto l'intervento chirurgico. Ad occuparsi del caso sono i carabinieri che, sembra, hanno già individuato l'autore del tentato omicidio. I militari hanno già sentito una prima volta Curto che però dice di non ricordare niente. Ancora da sciogliere il dubbio se a raggiungere il 31enne siano stati colpi di pistola o una scarica di pallini sparati con un fucile. Vincenzo Curto verrà riascoltato dai carabinieri una seconda volta nelle prossime ore per capire con chi fosse e cosa sia realmente accaduto.